Bentornati ad un nuovo appuntamento con EnjoyTG, l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di Enjoy Television. Questa settimana iniziamo parlandovi di Top 100 DJs 2010. Infatti il 27 ottobre scorso a Londra, al Ministry of Sound, c'è stata la premiazione per eleggere il DJ numero uno al mondo per l'anno 2010. Nessuna sorpresa, Armin Van Buren vince per il quarto anno consecutivo il titolo di miglior DJ del mondo. Secondo grande deluso David Guetta, tutti tra gli addetti ai lavori pensavano che quest'anno il premio andasse a lui. Al terzo posto, Tiesto, per vedere un nome italiano dobbiamo andare fino alla 26esima posizione con Benny Benassi. Incredibile, il risultato avuto da Ricci Otin, un'icona della musica elettronica, si trova solamente al 31esimo posto. Per guardare la classifica completa vi consigliamo www.djmag.com. Si è conclusa la scorsa settimana la quindicesima edizione dell'Amsterdam Dance Event, un'edizione che ha battuto tutti i record. Sono 112.000 i visitatori all'evento, 2.500 i delegati, 700 i DJ e 240 le testate giornalistiche presente all'Amsterdam Dance Event. Un record che ha portato l'Amsterdam Dance Event ad avere nomination all'interno degli European Festival Award nella categoria Best Medium Size Festival, quindi festival di dimensioni medie. Per maggiori informazioni e per votare per sostenere gli amici dell'Amsterdam Dance Event vi consigliamo il sito www.europeanfestivalaward.com. Swedish House Mafia, ovvero Sebastian Ingrosso, Axwell e Steven Gello sono nominati nella categoria Best European Act agli MTV Euro Music Awards 2010 che si terranno a Madrid il prossimo 7 novembre 2010. La nomination arriva contemporanea all'uscita del loro nuovo album. Si intitola Until Love vanta collaborazioni celebri. Per maggiori informazioni e per votare i sui di Shows Mafia per gli MTV Euro Music Awards vi consigliamo il sito www.ntv.com. La Panasonic annuncia la cessata produzione dei giradischi Technics SL 1200. È la fine dell'era dei giradischi analogici sostituiti prima dai CD e poi dalle nuove tecnologie. Anche per questa settimana è tutto, lo spazio dedicato ad EnjoyTG all'interno di Enjoy Television termina qui. Noi ci rivediamo la settimana prossima con tantissime news riguardanti il mondo della notte. Buon weekend a tutti, ciao!